Tanti giocatori con la valigia in mano al 30 giugno se la situazione societaria non dovesse sbloccarsi a breve. Il Monopoli guarda al futuro prossimo con un occhio a quello che potrebbe accadere tra poco più di un mese. Il primo nodo da sciogliere è quello relativo al contratto del capitano Mario Mercadante che con tre reti messe a segno e una serie di prestazioni positive è diventato uno dei difensori più continui della categoria e potrebbe far gol a molti club di serie C. Il giocatore Altamurano attende la società ma ovviamente si guarda attorno libero di scegliere la soluzione migliore per lui. Tanti anche i prestiti dei giocatori che torneranno alle rispettive società di appartenenza. Si guarda al futuro di Bunino che il Pescara potrebbe trattenere per il prossimo campionato di serie C ma anche a quello di Lorenzo Paolucci che la regina potrebbe decidere di vendere. Remote le possibilità di rivedere in Puglia Giuliano, Satalino, Steau e Isacco ma prima di cominciare a parlare di mercato c'è il nodo Fideiussione da sciogliere con uno tra Lopez e Laricchia pronto ad assumere da solo il comando.